Quello che ci chiedono sono dei container collettivi fino all'arrivo delle casette dove dobbiamo dividere tipo camerate diciamo, dove saremo forse 48 persone e dovremo dividere bagni in comune, cucine in comune e tutti gli ambienti in comune. Non esisterà più privacy dentro le nostre famiglie, noi abbiamo bambini piccoli, bambini grandi quindi staremo tutti insieme, tutti una grande famiglia e questo a noi logicamente non sta bene perché vogliamo